Signore, con una tristissima Virtus e con un alcolico Mele. Allora, Mele, risultato bugiardo. Mele, siamo in diretta. Come hai visto la partita lì da... me la metto a campo. Siamo a buona prestazione della difesa. Ottima. Marra. Come stai? Bene, bene. Sconvitti su tutti i fronti oggi. Uff, meno male che ci sono stati rossoneri a Palermo ieri sera. Cosa c'è che non funziona in questa squadra? Siamo alterni. Alterniamo risultati positivi a risultati molto negativi. Vediamo grande amarezza, Indè. Non sei riuscito ancora da sbloccarti. Pensi che con l'inizio della mia vera è lo scopo di tutti i fiori. Finalmente vedremo il vero Marra. 16 giorni ancora, sì, pensi che sì. Però faccio segnare sempre a Barolo. Barolo che è poi un tuo uomo, tu l'hai portato nella Virtus, è stata la tua grande scoperta. L'unica nota positiva di questa stagione. Ehi, almeno. Cosa stai? Non morire. Signore, da una muta Virtus. Da una tristezza senza fine. Barboni si chiede. Uomini. Ciao piccolino, tifoso. Devo. Ciao, allora. Buona prestazione della difesa, secondo te, oggi? No, pessima. Pessima prestazione. Specialmente Tony e Mores. Insieme a Tony Raimo. Due Tony, non hanno combinato nulla. Tony Raimo non è riuscito nemmeno ad entrare in campo. Non so se... Per questo è andato subito a fare la doccia, anche se non c'era bisogno. Ma non importa. Poi però c'è stato Erminio. Il contesto alcolico è ancora un po' alto. Un po' nervoso in campo. Un po' tutti. Sette a uno, bellissimo risultato. Noi ringraziamo il piccolo manganaggio. Grazie.